Ai Disney Friends for Change Games le squadre hanno affrontato il primo gioco. China N si è scatenata. Sai, sono davvero orgogliosa di noi tre e di come abbiamo ballato. E Rochon ha dato il meglio di sé. I blu hanno sfoggiato passi perfetti. La squadra rossa però ha fatto salire di più il livello di energia. E il vincitore è la squadra rossa! Ma c'è stato un colpo di scena. Per aver vinto voi potete portare via una delle squadre avversarie e uno dei suoi giocatori. Quale giocatore sceglieranno? Non prendete Adam, non prendete Adam! Rochon e Adam. Non scegliete Rochon. Allora tu chi voti? Mentre stavano decidendo quale giocatore scegliere la tensione si poteva tagliare. Amo la mia squadra e chissà che cosa mi aspetta. Scopritelo venerdì alle 17. La persona che abbiamo scelto è... La sfida continuerà con il secondo gioco. E dalla più forte! Sto pedalando piccola! Il lava tutto! Continuate a sostenere Valentina e la sua squadra. Divertitevi con me a prendervi cura dell'ambiente ai Disney Friends for Change Games. Disney Friends for Change Games. Venerdì dalle 17 per un lungo weekend. Solo a Disney Channel.